Sono bastate 11 presenze a Nenad Kristicic per realizzare il suo primo gol in Serie A. Jonathan Rossini, in comproprietà con l'Udinese, non ha mai saltato un minuto di gioco in questa Serie A. Gli ex di turno sono tre, Padelli e Domizzi in casa friulana, Fernando Tissone nelle fila blucerchiate. L'Udinese non vince a Marassi da otto anni, l'ultima volta nel 2004, quando i friulani si imposero per 3-1. L'ultimo precedente in campionato, invece, è datato 26 settembre 2010. La sfida si chiuse a reti inviolate. L'arbitro di quel pareggio fu Gervasoni, lo stesso che fischierà nella sfida in programma per questa giornata.